È una partita che abbiamo controllato per due quarti e mezzo, dopodiché abbiamo completamente perso il filo del gioco. Volevamo togliere alla stella azzurra l'area e volevamo evitare i contropiedi, finché abbiamo retto a rimbalzo e stiamo stati bravi a chiudere l'area la qualità sotto controllo. Poi evidentemente i 21 rimbalzi offensivi presi sono indicativi del fatto che quel lavoro non l'abbiamo fatto bene e le 15 palle perse, di cui 11 nel secondo tempo, dicono che abbiamo completamente perso il gioco. In tutto questo aggiungo che mi ho vinto la settimana scorsa, no, ho partito di grande energia, con giocatori coinvolti, coinvolti emotivamente e coinvolti mentalmente. Oggi abbiamo avuto qualcuno che ha cominciato a lamentarsi perché gli si è chiesto di fare un sacrificio e questa cosa non va bene. Siamo costruiti per doverci salvare. I nostri giocatori devono capire immediatamente, subito da stasera, che quando gli si chiede un sacrificio si devono sacrificare tutti in istituzione.